oh salvo oh mimi che ci fai qua no che ci fai qua tu io ti stavo cercando veniva da te e ti ho visto e allora ti ho fermato come è che mi cercavi hai trovato un altro morto no per favore non mi parlare del nostro morto perché mi vengono le palpitazioni salvo non me ne parlare già te l'ho detto un'altra volta il morto è tuo l'hai trovato tu e comunque dimmi ho una notizia bomba so chi era bionda è bionda che dalla notte e va bene parliamo domani mattina ecco quale domani mattina salvo so come si chiama anita pastore si chiama e proprietario di una fabbrica di cioccolato che gli hanno lasciato i parenti la famiglia ecco hai saputo altro e si so il numero di telefono dove abita e però da te volevo sapere che si fa e non ne possiamo parlare domani mattina ehi salvo mi guardi un attimo negli occhi dove stai andando perché perché il vino sei tutto alleccato ai fritte che te ne vuoi andare dove vai a cena d'adelina posso